Crosso al centro verso Mario Balotelli! Mamma mia che gol di Mario! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo tornati su FIFA 15, siamo nella Road to Division 1 Eravamo rimasti con 6 punti ragazzi, 2 vittorie nelle prime 2 partite, quindi siamo nella Division 7 Siamo a caccia delle vittorie per arrivare nella Division 6 Le cose si stanno iniziando a fare interessanti, ci bastano 8 punti per la promozione ragazzi 8 punti, quindi 3 vittorie, abbiamo 8 partite rimaste, quindi niente di così impossibile Andiamo a vedere il nostro avversario di oggi che si chiama Ibracadabra, valutazione 82, Negredo in attacco Quello lì è Rakitic come COC, abbiamo Chedira, Mascherano, una buona squadra Però non ci fa paura nessuno, andiamo subito a fargli il culo come sempre Siamo qui con il nostro Mario Balotelli, parte subito la partita Continuate a consigliarmi nei commenti dei giocatori per migliorare sempre la squadra ragazzi Fabregas, miralas, vede scattare Mario Balotelli, Fabregas, miralas sulla fascia, vede subito scattare Balotelli Cross sbagliatissimo di Kevin, Kevin cosa fai, Kevin cosa fai, bella Moreno prendila Bella Coscellino, non gliela dare, è solo, portiere All'undicesimo ci fa subito questo cazzo di gol ragazzi, siamo partiti malissimo oggi, non so chi è questo qui Bacca, va bene dai, ci rifaremo, ci rifaremo, con calma ragazzi, con calma Shurle, rientra, dribbling, va da solo Shurle, vuole andare da solo ragazzi Però vede Fabregas che si inserisce, guarda miralas che scatta, miralas la finta, miralas la prova a piazzare Oddio che parata di testa, cosa ha sbagliato Shurle ragazzi, cosa ha sbagliato Shurle Fallo per lui, come al solito, prendiamola, prendiamola, portiere, aiuto, oddio, che sta succedendo, che sta succedendo Stiamo soffrendo, stiamo soffrendo Ma vaffanculo, che gol di merda, 2 a 0, oggi non va niente bene ragazzi Sempre questo Bacca, che sarà bugatissimo per sé, se l'ha comprato ci sarà un motivo, guardatelo come spetta Dicevo che su FIFA a volte sembra strano, dei giocatori in alcune partite vanno velocissimi, in altre sembrano dei ritardati in modo incredibile Fernandinho verso Shurle, che vede Mario scattare, Mario, il pallonetto, è rigore questo, questo è rigore, non ci credo ragazzi Fermatelo, fermatelo, sempre da solo, sempre da solo Cazzo Sempre da solo si trova questo, 3 a 0 al primo tempo, cappottone per noi, cappottone per noi Ok, finisce il primo tempo ragazzi, 3 a 0 per lui, veramente partita tristissima Ma non meritiamo questo, no no no, check Fanculo, mai perso in questo modo, mai perso in questo modo Shurle, ancora Shurle, scatta sulla fascia ragazzi, guardate quanto è lento oggi Shurle Cazzo, cross al centro, verso Kevin Miralas, Kevin riapre la partita al cinquantinesimo 4 a 1, dai ragazzi, cattivi, subito, subito, torniamo, subito Mario, che stop di merda di Mario, oggi ragazzi, oggi sbagliano tutto, stop, vanno lenti come le pecore proprio Vattene via Shurle, vattene via Shurle, vai via Shurle, ancora Shurle, Shurle, è da solo Si scarta anche quest'altro, cross al centro, verso Mario Balotelli Mamma mia che gol di Mario Mamma mia che gol di Mario ragazzi Come l'ha presa, nel set l'ha messa Guarda lì dove l'ha messa, guarda lì dove l'ha messa Mario Perché sono sempre soli oggi ragazzi? Oggi sono sempre soli Oggi sono sempre soli Sempre soli Ancora bacca 5 gol di Carlos bacca Ma è normale, non è normale Mamma mia Shurle Mamma mia cosa ha fatto Shurle La passa verso Mario che sfonda la porta E prende mira all'azzo, non ci credo Non ci credo Ancora Shurle Shurle sfonda la porta 5 a 3 al novantesimo Non ci stanno i ragazzi Non ci stanno a perdere così 5 a 3 ragazzi Non ho mai perso in questo modo Mai Ragazzi, perdiamo questa prima partita Una partita stranissima Carlos bacca che fa 5 gol Non si è mai visto Non so neanche chi sia Lo andrò a vedere questo giocatore Ma oggi non ci andava niente bene Quindi andiamo a fare subito la seconda partita Sperando di riprendere un po' Il nostro percorso Ecco qui il nostro secondo avversario Hamad Valutazione 82 Intesa 100 Amsic Higuain Palasio Ragazzi Una squadra di Serie A Niente male Niente male Speriamo che vada meglio della scorsa partita Ragazzi abbiamo perso 5 a 3 Guardate i primi fail allucinanti di Miralas Oggi i giocatori non sanno che cazzo hanno ragazzi Non si sa che cosa hanno Dai Shurle Dai Shurle Oggi ti vedo più tonico però Shurle Butta la sfonda alla porta Così cattivi Subito Fernandini al centro Verso Balotelli Il salvataggio sulla linea Il salvataggio sulla linea Non ci credo Non ci credo Ancora lui Ancora lui Se ne vuole andare ragazzi Mezza a 2 Se ne vuole andare Se ne vuole andare Shurle La vuole piazzare Oggi Shurle è cattivo ragazzi Oggi Shurle è in forma Oggi c'è Lui c'è Lui c'è Mamma mia Fabregas La prende Fabregas Fabregas Se l'allunga Prova il tiro Fabregas Miralas Ancora Miralas Finta il tiro Miralas Si accentra La piazza No Ancora Ancora Kevin Non ci sta capendo nulla ragazzi Diavoli rossi Fernandini al centro Verso Mangala Che sta succedendo Fernandini Fernandini la vuole piazzare Oddio il liscio Oddio vicino al palo È stata deviata È stata deviata dal portiere Fernandini ancora al centro Verso Mangala Che cosa ha parato Oggi non vuole entrare ragazzi Oggi non vuole entrare Shurle ancora lui Finta il tiro Ancora Shurle Shurle Di sinistro Oddio Non riesco a segnare Touré Verso Fernandini Vede scattare Miralas Sulla fascia C'è Kevin C'è Kevin Finta il tiro Kevin Rientra E prova la botta No Non ci credo ragazzi Oggi non va bene Oggi non va bene Sfortunata oggi Ancora Shurle Che vuole entrare ragazzi Vuole entrare Ragazzi mi ha spostato Mi ha spostato Vuole cambiare verso L'altro lato Verso Fabregas Che la stoppa di testa Fabregas Prova la botta Ragazzi non entra Ragazzi non entra Ancora al centro Verso Mangala Verso Fabregas Oddio è solo Oddio è solo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Portiere Bella check Che cosa fate voi Ancora di tacco Walker Verso Miralas Miralas I numeri di Miralas Se ne va Miralas Fallaccio Fallaccio Direzione 1-0 Meritatissimo Meritatissimo Oggi sembrava una scongiura ragazzi Non voleva entrare la palla Abbiamo fatto 50 milioni di tiri Alla fine della partita Voglio proprio vedere Quanti tiri ho fatto Ragazzi Ha messo in pausa Non vorrei che ci fosse Regguit Adesso 14 tiri a 2 Possesso palla del 59% Vediamo se sta regguitando Questo lo sta facendo apposta ragazzi Sta rosicando E vuole solo perdere tempo Questo vuole solo perdere tempo Noi spiattiamo qui E adesso gli facciamo il culo Adesso non può metterla più la pausa Se non sbaglio Dovrebbe aver finito le pause Porca troia Mo deve giocare O gioca O gli faccio gol così Dammi la palla Adesso non puoi mettere pausa Non puoi farlo Gioca 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 Ci sta E' tornato ragazzi E' tornato E' tornato Sto stronzo Di merda Mario Se ne va La vuole piazzare E' ancora Il gol Di chi è? Di chi è? Di Mangalà Cosa ci fa Mangalà in attacco Ragazzi Cosa ci fa Mangalà in attacco Pisellone Mangalà Fa un culo Sto stronzo Che ci ha fatto perdere Un casino di tempo Guardate Mangalà Come si inserisce Guardatelo Il capoccione Di Mangalà Elia Kim Mangalà La palla è nostra Con Yaya Touré Yaya Touré Yaya Touré Ancora lui Ancora Yaya Touré Prova la botta Yaya Touré Dai bloccatelo Check Mamma mia Che parata Che ha fatto Check Mamma mia Ancora Ancora Fernandinho Ancora Fernandinho Ragazzi Fernandinho Vuole provare la botta 1-2 Verso Mario Ancora Kevin Kevin Miralas Kevin Miralas Se ne va Con il prestigio Prova il tiro Rigore Deviata ragazzi Calcio d'angolo Calcio d'angolo Vediamo un po' Fernandinho Che la mette Fuori dell'aria Mangalà Guarda Kevin Lì sopra Guarda Kevin Miralas Moreno I piedi a papera Di Moreno Fernandinho Su Balotelli Yaya Touré Ragazzi Si allunga la palla Di sinistro Cosa è successo È stata deviata Ancora Fernandinho La vuole mettere Verso l'esterno Balotelli Arriva Walker Che la vuole piazzare Di sinistro Cosa è successo Ragazzi Cosa sta succedendo Il cross di Fernandinho Verso Mangalà Non vuole entrare La palla 2 a 0 per noi L'importante è vincere Finisce la partita Ragazzi 2 a 0 per noi 2 a 0 2 a 0 Quindi Primo tempo Dominato Il secondo tempo Ha iniziato a fare Un po' l'idiota Questo perché Rosicava Per tutti i tiri Che gli abbiamo fatto Nel primo tempo Voglio vedere le statistiche Proprio così Per divertimento Mangalà E Balotelli Sul rigore Ragazzi 29 tiri A 4 Cioè Una partita Ridicola Mangalà Giocatore Migliore Della partita Miglior giocatore Della partita Mangalà Quindi Piamo questi 3 punti Che ci fanno comodo Arriviamo a 9 3 vittorie 0 pareggi E una sconfitta Quella di prima Abbiamo perso Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Un commento Una condivisione Continuate a consigliarmi Qualche cambiamento Da fare Nella formazione E noi continuiamo A scalare La divisione Ci vediamo In un prossimo video Bella